L'unica cosa che è cambiata è che fa caldo, il sole batte forte e quel fango in cui prima si affondava ora è solido, sicco, ma è ancora tutto lì. L'alluvione dopo sei mesi sembra non esserci stata passeggiando per il centro, tra le bellezze di Benevento, ma basta spostarsi un po'. Il parco Cellarulo doveva essere un fiore all'occhiello della città, è devastato, tramura sfondate, opere crollate e fango ovunque. Più in là a Pantano stesso scenario, ma non solo, il fiume fa paura. Oggi i nubi fragili sembrano lontani, ma il letto è pieno di alberi, piante, che andrebbero a costruire un ostacolo serio, un tappo che in caso di nuove piogge rappresenterebbe una bomba pericolosissima e gli abitanti lo sanno. Qui non è cambiato molto perché da come si vede si può dire che come era, è cambiato solo che dall'ultima volta c'era qualche pianta ancora verde, adesso invece si vede il disastro che incomincia a prendere le sue dimensioni perché le piante praticamente stanno completamente andando a morte. La realtà è che il fiume con gli alberi di velti, i salici e pioppi che stanno corregati, quelli adesso incominciano la vegetazione, praticamente in autunno avremo migliaia di mini alberi pronti a fare da diga, da diga naturale, faranno tante di quelle altre dighe e quindi il disastro potrebbe essere ancora più grande di quello che si è verificato. Se non si prende provvedimento saremo veramente nei guai.